Chiediamo a Dario Casalini appunto di descriverci la sua realtà imprenditoriale di un'azienda nata nel 1936, ormai leader nel settore della maglieria. A lei Dario Casalini. Sì, dunque la nostra realtà, come ben detto, compie il prossimo anno 80 anni. La caratteristica principale è quella di avere una filiera assolutamente integrata. Noi abbiamo sia le tessiture, quindi acquistiamo il filato e arriviamo fino al capo finito. Attraverso tessitura, taglio, confezione e del prodotto finito. Il nostro DNA è quello di utilizzare solo fibre naturali, quindi seta, lana e cotone, filo scozia. Tutte materiali di eccellenza, quindi lana merino, seta ovviamente cinese e cotone egiziano. Per avere un capo che può essere vestito sempre sulla pelle. Quindi l'idea è quella di avere sia un intimo che una parte più sotto giacca, ma sempre da vestire sulla pelle. E riteniamo che le fibre naturali a questo fine siano le più adeguate, proprio le più salubri e qualitativamente migliori per vestire tutti i giorni. E le chiediamo come mai ha deciso di partecipare all'exclusive brand di questo congresso? Quali sono le finalità? Il progetto Exclusive Brands Torino è un progetto, secondo me, di grandissimo interesse. È stato il primo contratto di rete trasversale, cioè tra settori merceologici molto diversi. Quello che accumuna tutti noi è una condivisione di valori. In primo luogo appunto la produzione di eccellenza e di qualità, il fatto di essere legati al territorio torinese o comunque piemontese, il mantenere la produzione sul territorio e il voler anche mantenere e perpetrare nel tempo i know-how produttivi, quindi industriali, che il territorio ha espresso ed esprime nelle nostre realtà aziendali. L'idea è quella di aggregarsi per avere momenti di comunicazione e di offerta commerciale insieme. Quindi cercare di fare un'offerta integrata che sia uno specchio del territorio. Un po' come lo è l'arte e la cultura, vorremmo che lo fosse anche l'industria, almeno nelle espressioni di eccellenza. Ok, ora ti chiediamo solo una domanda sul congresso. Qual è la tua opinione? Penso che il congresso è molto buon e l'attendenza è di un livello molto alto. Quindi siamo molto orgogliosi di essere qui. Siamo felici di avere la possibilità di incontrare diverse persone da diversi mercati e paesi del mondo. Penso che abbiamo usato questo tipo di evento, di trovare alcuni sede e di farciare il tempo. Ma è importante fare una connessione e di sviluppare più in più. Quindi siamo molto felici di essere qui. Ringraziamo Dario Casalini e diamo l'appuntamento al prossimo ospite qui in Media Palazzo.